Ciao a tutti, mi chiamo Gandhi, vengo dall'Indonesia e qui in Italia io abito in Sardegna, centro locale Guspini. Ok, allora, ci sono due cose che mi piace in Italia. In Sardegna, ovviamente perché io vivo in Sardegna, la musica e il ballo. La musica in Sardegna si usa la onedas, che a me piace molto. Un tipo di flauto, vengo e viene da Sardegna, origine da Sardegna. È molto strano per me anche, perché io lo so solo per la flauta attraverso. E il ballo anche, molto particolare, perché solo i piedi si muovono. E poi il corpo è sempre fermo, molto particolare. Solo quello. Grazie.